Ma soddisfatto innanzitutto della tua nuova avventura in Abruzzo? Sì, sì, sicuramente soddisfatto. È una bella esperienza iniziare soprattutto con una partita così importante. Abbiamo cercato di dare il massimo, abbiamo provato i concetti che il mister ci aveva chiesto. A breve cominceremo con la Coppa Italia e ci sentiamo pronti. Una partita importante, quella che ci sarà giovedì con l'Olbia, perché si inizierà a fare sul serio. C'è la Coppa Italia. L'obiettivo è di iniziare bene la stagione. Certo, diciamo, si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Sicuramente iniziare con il piede giusto è sempre la cosa più importante per chi ha grandi obiettivi. Noi diciamo che guardiamo di settimana in settimana, ma non nascondiamo di avere obiettivi importanti. Lo scorso anno eri alla Vibonese, quest'anno sei al Pescara, una squadra che punta dichiaratamente ad un campionato di vertice. Sì, sicuramente trovarsi in una situazione, in un contesto del genere è sempre un onore, soprattutto per un ragazzo giovane come me. Spero di dare il massimo e sono sicuro che da quello che abbiamo visto in settimana faremo molto bene quest'anno. Eri stato in prova per diversi giorni, poi è arrivata la decisione di autere e di farti tesserare. Per te questo è un attestato di stima importante? Questo sì, innanzitutto è un attestato di stima e poi soprattutto è una cosa di riconoscenza da parte del mister. Spero di ripagare la sua fiducia, è quella che mi è stata dal direttore e da tutta la società. Grazie. Grazie. Grazie.